La polizia ha smantellato una rete di spaccio che agiva sul territorio novarese con ramificazioni a Torino. A Domodossora la polizia municipale ha individuato il vandalo del cimitero, l'uomo è stato denunciato a piede libero. A Omenia senza tatti che fanno saltare la votazione della variazione di bilancio, si chiude così la legislatura. Dieci alunni delle seconde classi delle medie di Pievevergonte primi al concorso regionale Chi è di scena? La Repubblica. Finalmente tornato in presenza il concerto di fine anno delle scuole medie Cadorna di Iverbani ha tanti gli applausi per i ragazzi. Baffoni cede a Cremona 82-64, ora sotto 2-0 nella serie di semifinale. Omenia parte bene ma poi crolla. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie e dalla cronaca ad aprire il telegiornale. Una vasta rete di spaccio è stata smantellata dalla polizia in Piemonte. Gli agenti hanno eseguito 12 misure cautelari e 11 denunce. 12 misure cautelari, 11 persone denunciate a piede libero nell'ambito della Maxi, operazione antidroga della squadra mobile della Polizia di Stato di Novara. Nell'indagine coinvolti i soggetti di nazionalità italiana, albanese e marocchina che portavano avanti un giro di spaccio tra Novara, Torino e Milano. In particolare sono state eseguite 4 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria per un totale di 23 perquisizioni. Tutte le misure sono state messe al Tribunale di Novara su richiesta della Procura. Sempre nel corso della stessa attività di indagine ne sono già stati eseguiti 5 arresti in fragranza di reato, con il sequestro di oltre 14 kg di marijuana, 3 etti di cocaina, 1 kg di hashish e oltre 9.000 euro in contanti. Nell'esecuzione di una delle perquisizioni di oggi, nei confronti di due degli indagati, si è proceduto all'arresto in fragranza perché in possesso di circa un etto di cocaina, 7 etti di hashish e 100 grammi di marijuana. Con tutta la strumentazione necessaria, la preparazione delle dosi, bilancino di precisione per il peso, il taglierino per preparare le dosi e la plastica per il confezionamento. Sono stati inoltre sequestrati circa 25.000 euro in contanti. L'attività di indagine condotta dalla squadra mobile ha avuto inizio nel giugno 2021 da un precedente arresto in fragranza di reato. In quell'occasione erano emersi dei dettagli che avevano richiamato l'attenzione degli investigatori, che avevano capito che il soggetto poteva essere inserito in un più ampio contesto criminale, sia per la tipologia di sostanza stupefacente e cocaina purissima, sia per i contatti che doveva necessariamente avere per ottenere quella tipologia di sostanza. Quelli che erano sospetti, man mano nel corso dell'indagine, sono diventati elementi più concreti per ricostruire la rete di spaccio che veniva condotta con modalità professionali. Le figure di spicco tra gli indagati hanno a carico precedenti specifici ed erano abili nell'elludere i controlli. In particolare, 4 trentenni movimentavano ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana ogni mese fino a 20-30 kg di marijuana e fino a 1 kg di cocaina, con guadagni altissimi. Gli stessi erano dei punti di riferimento per gli altri spacciatori novaresi. Alcuni indagati avevano addirittura lasciato il proprio posto di lavoro per dedicarsi a tempo pieno al traffico di sostanze stupefacenti. A Domodossola sono state le indagini della Polizia Municipale. Ad individuare l'autore dei furti e degli atti vandalici al cimitero di Via Torino, l'uomo è stato denunciato. Dovrà rispondere di porto senza giustificato motivo, di strumenti da appunto e taglio, atti ad offendere, furto aggravato, danneggiamento e vilipendio di tombe. L'uomo sorpreso nella notte tra il 16 e il 17 maggio all'interno dell'area cimiteriale a Domodossola. L'hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale della città nell'ambito delle indagini sui diversi danneggiamenti registrati negli ultimi mesi all'interno del Camposanto Domese. Il monitoraggio dell'area infatti andava avanti da tempo. Due settimane fa, attorno all'una di notte, è scattato il blizza all'interno del cimitero e la conseguente denuncia a piede libero. L'uomo è stato localizzato nell'area nord del Camposanto. Addosso gli sono stati rinvenuti due coltelli, un taglierino e ancora una torcia e diversi arredi cimiteriali. Sono stati rinvenuti anche oggetti che possono essere collegati a pratiche esoteriche, spiegano dal comando della Polizia Locale Domese. Circostanze che hanno indotto gli agenti a far scattare anche la perquisizione dell'abitazione dell'uomo. Anche qui rinvenuto materiale riconducibile ai furti al cimitero. L'attività investigativa degli agenti domesi ha preso avvio dopo che numerosi cittadini hanno sporto denuncia per danneggiamenti e furti ad arredi funebri. nel corso di appostamenti e sopra luoghi gli agenti hanno rinvenuto parte degli oggetti rubati lungo il muro di cinta del cimitero di Via Torino, sul lato sud. Mancano ormai dieci giorni alle elezioni di Omenia. Il clima politico-amministrativo diventa rovente. Si è chiuso all'insegna della polemica l'ultimo Consiglio Comunale della legislatura e l'Assemblea non ha approvato la variazione di bilancio all'ordine del giorno. È saltata la variazione di bilancio in Consiglio Comunale che sarebbe stata di fatto l'ultima operazione dell'amministrazione Marchioni. Una variazione di 86 mila euro, 20 mila per iniziative legate al turismo da spendere entro giugno, 40 mila come contributo a diverse società sportive e associazioni e 18 mila euro per il progetto legato al liter per la candidatura Unesco di Omenia per la sua storia nel casalingo. Mi spiace, questa mancata ratifica di una delibera di giunta è frutto della miopia della minoranza e di chi non sostiene più l'attuale maggioranza. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, si sappia che essere penalizzate sono società sportive che aspettavano questi contributi per sistemare le loro strutture e per la loro attività sociale. La contestazione sui soldi spesi per il decoro urbano con aiuole e fiori e con i primi eventi organizzati è assurda. A giugno qualsiasi città si deve rifare il lucchio per l'arrivo dei turisti, indipendentemente dalle elezioni e la presa di posizione del sindaco Marchioni. Il Consiglio Comunale, replicano i consiglieri di Omenia Sicambia, Lucia Camera e Mauro Empolesi, ha fermato alcuni atti e in particolare una variazione di bilancio che distribuiva soldi ad alcune realtà come fossero una mancia elettorale e che avrebbe consentito a qualche assessore, uno in particolare, di poter organizzare attività ed eventi con evidente scopo propagandistico. Tutto questo a dieci giorni dalle elezioni. Le campagne elettorali non si pagano con i soldi dei cittadini, la conclusione di due consiglieri. Stessa lunghezza d'onda per il PD. La variazione di ieri, per fortuna saltata, grazie anche al voto responsabile, anche degli ex consiglieri di maggioranza e del presidente del Consiglio Comunale Tiziano Buzzo, spiega Alessandro Rondinelli, era un'azione a gamba tesa, figlia del peggior opportunismo elettorale che solo un vecchio volpone della politica poteva compiere così, spudolatamente. E a proposito di elezioni, presentata nei giorni scorsi la lista di Forza Italia a Omenia, la compagine è al fianco di Paolo Marchioni che il 12 giugno si ripresenta al giudizio degli elettori. Forza Italia, a sostegno della candidatura di Paolo Marchioni, ha presentato nei giorni scorsi al forum di Omenia la lista dei candidati alle prossime elezioni. I candidati, le parole dei vertici di Forza Italia, ben rappresentano tutti i diversi volti della comunità omenese. Si tratta di professionisti, imprenditori, commercianti, studenti, pensionati che con entusiasmo hanno deciso di impegnarsi in prima persona per il futuro della loro città, mettendo a disposizione le diverse competenze. Alcuni di loro vantano esperienze amministrative pregresse, se altri per la prima volta affrontano il verdetto delle urne. I punti fermi del programma elettorale sono lo sviluppo turistico della città partendo dal masterplan, con la realizzazione delle opere pubbliche individuate, il rifacimento di lungo lago Buozzi e dell'area dei giardini. Per noi è molto importante anche l'attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dell'arredo urbano e la prosecuzione del piano dedicato alle riasfaltature di importanti arterie cittadine come la via 11 settembre e altre vie in centro e nelle periferie, hanno concluso gli azzurri. Questa la lista dei candidati Giulio Lapidari, 63 anni, farmacista, Giulio Capriata, 72 anni, medico-chirurgo, Francesca Maria Perini, 39 anni, commerciante, Paola Beltrami, 62 anni, commerciante, Federica Bertolotti, 47 anni, imprenditrice, Giulio Bezzoli, 73 anni, pensionato, Giovanni Bracchi, 79 anni, pensionato, Maura Cerutti, 67 anni, imprenditrice, Sara Cillis, 19 anni, studentessa, Giuliano Clementi, 62 anni, avvocato, Caterina Ferri, 60 anni, collaboratrice amministrativa, Maura Frigatti, 55 anni, imprenditrice, Pietro Lavarini, 64 anni, ingegnere, imprenditore, Flavio Maffioli, 64 anni, imprenditore edile, Andrea Pipi, 64 anni, cameriere di sala e Luciana Signor, 56 anni, architetto. Cambiamo argomento. Si sono classificati i primi ex equo con le medie di San Maurizio d'Opaglio e dieci ragazzi delle classi seconde delle medie di Pieve Vergonte. Nell'ambito del concorso regionale dal titolo, chi è di scena? La Repubblica. Hanno presentato un video che racconta la battaglia di Megolo. Tutto è nato da un'idea della professoressa Giovanna Noli, insegnante di matematica. Una gita fuori porta a Torino per ritirare un attestato, che è un riconoscimento a un lavoro scolastico. Di cosa si tratta? Allora, in pratica abbiamo realizzato un video. Il titolo del nostro video è anche a Megolo si è costruita la Repubblica. Quindi, come stavo dicendo, nel 2010 abbiamo realizzato un testo rappresentato, naturalmente era un testo teatrale. Quindi da quel testo abbiamo estrapolato delle frasi molto importanti e quindi l'abbiamo proposto ai nostri ragazzi. Siamo andati sul territorio, sul posto a Megolo e abbiamo girato il video. Quindi questo video, naturalmente il montaggio è stato, il professor Pavesi è stato proprio la ciliegina perché è veramente montato veramente bene il video. Per cui quando l'abbiamo inviato, naturalmente sì, pensavamo sì, vinciamo, vinciamo. Però naturalmente non era questo il nostro obiettivo vincere e far conoscere a ragazzi di 12 anni che sul territorio dove loro vivono un pezzo della storia è stata scritta qua in questo territorio. Un riconoscimento a questi studenti della Scuola Media dell'Istituto Bagnolini di Pievevergonte che parte da un lavoro sulla storia locale. Quanto è importante? È importantissimo. Io sono orgogliosa dei ragazzi, in particolar modo anche dei docenti che hanno colto la sfida perché non era facile a livello regionale, invece sono stati bravissimi, hanno riportato all'interno della comunità il valore della resistenza e dei principi della Costituzione. In questo modo hanno esercitato davvero la cittadinanza attiva. L'orgoglio di Pievevergonte nella persona del sindaco che ha accompagnato questi ragazzi a Torino per ritirare questo premio. Sì, sono stati decisamente i migliori. Non c'è stata storia, è stato bello perché hanno portato una storia per noi importantissima che sono i martiri di Megolo e l'hanno portato con una naturalezza di ragazzi giovani che cercano di capire le origini della nostra Repubblica. Ed ora il concerto di fine anno che si è tenuto lunedì pomeriggio per gli alunni delle scuole medie Cadorna di Verbania. Finalmente, dopo due anni di esibizioni virtuali, si è tornati a suonare in presenza per il tradizionale concerto di fine anno delle scuole medie Cadorna di Verbania. Finalmente sono rispuntati i sorrisi degli studenti riuniti nel cortile della scuola, sorrisi prima celati dalle mascherine. Insomma, un grande evento per i giovani, per i loro insegnanti e per i genitori. Quello è andato in scena lo scorso lunedì. Più di un centinaio i ragazzi dell'indirizzo musicale che si sono esibiti ad aprire il concerto il coro delle due prime diretto da Enrico Apletti con brani cantati e body percussion. È stata quindi la volta dei diversi ensemble. L'orchestra d'archi con le due seconde e le due terze dirette dal maestro Pierangelo Morganti ha proposto un repertorio legato alla musica classica con brani di Mozart, Beethoven, ma anche alcuni pezzi originali. Quindi le orchestre di fiati e di percussioni di seconda e di terza dirette dal maestro Davide Merlino che hanno eseguito musiche originali per banda. Abbiamo proposto un concerto lungo e per certi versi liberatorio, ha spiegato Merlino. C'era la voglia di tornare a esibirsi, condivisa da tutti. Il bel tempo e la possibilità di esibirsi in cortile a concluso ci hanno consentito di non avere limiti di pubblico. Le esibizioni sono state scandite da tanti applausi. sono oltre dieci anni che la scuola, grazie all'indirizzo musicale, propone concerti a Natale a fine anno, più quelli legati alle otto classi di strumenti. A Domodosso, la fino a domenica 5 giugno, l'Artoteca di Sé propone la mostra dal titolo Always Angry, evento dedicato all'illustratore Marco Goran Romano. L'illustratore pugliese è stato inserito tra i dieci migliori giovani designer secondo il settimanale americano Adweek e nella lista dei 20 under 30 New Visual Artist stilata da Print Magazine. Giovedì 2 giugno apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30. Nel fine settimana, dalle 10 alle 12, nel pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30. E siamo alla nostra programmazione, alle anticipazioni della nuova puntata dell'Infinito dentro un bisogno l'incontro, programma a cura del CST Novara VCO che torna giovedì alle 18 e venerdì alle 13 e alle 21 e 30. Vi aspettiamo all'Infinito dentro un bisogno, l'incontro. Parleremo di bambini, ma in particolare di bambini sofferenti e in particolare di volontariato nei reparti dell'ospedale proprio per sostenere sia i bambini, sia gli adolescenti, sia le loro famiglie in un momento di difficoltà e di sofferenza. E' con noi in studio la presidente di Abbio Novara, Antonella Brianza. Buonasera Antonella. Buonasera. E Antonella ci racconta un progetto molto importante, un progetto d'eccellenza e il primo in Italia che si chiama Coloriamo la sala operatoria. Di cosa si tratta Antonella? E' un'idea proprio innovativa. Il progetto è appena stato realizzato in pediatria. Consiste nell'accogliere i bambini e la loro mamma all'interno della sala operatoria. Quindi è un progetto di preparazione all'intervento chirurgico attraverso il mondo delle storie e attraverso i colori e la fantasia. Quindi al bambino viene regalato un libro che a modo di leggere insieme alla sua mamma in camera ha un libro multilingua e quando entra in sala operatoria avrà una bellissima sorpresa che racconteremo. Quindi non potete mancare alla puntata dell'Infinito dentro un bisogno in cui vi saranno illustrati questo e gli altri progetti di Abio Novara. Vi aspettiamo. Ed ora lo sport in apertura. Il basket con il tracollo della Paffoni a Cremona. Nuovo appuntamento venerdì con un imperativo. La vittoria. La peggiore partita della gestione Fioretti nel momento più importante della stagione. La Paffoni torna con le ossa rotte da gara 2 di semifinale playoff al Palarali di Cremona. Finisce 82-64 per i padroni di casa che dunque mettono una ipoteca importante sulla conquista della finale. Nell'altra semifinale il punteggio è di 1-1 tra Samminiato e Pavia dopo il blitz esterno dei ragazzi di Ducarello contro l'Etrusca la vittoria di 3 punti in gara 2 ieri sera. Tornando però al match di Cremona la Paffoni è stata davvero irriconoscibile. Una squadra nervosa, una squadra che ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare sia in attacco che in difesa e si è fatta prendere come detto dal nervosismo tecnici, anzi sportivi. L'espulsione finale di Turelli non è stata sicuramente una serata positiva per i ragazzi di Coccio e Fioretti che erano partiti discretamente trovando il vantaggio nel corso del primo quarto come era successo anche in gara 1 poi però Cremona è stata brava a raddrizzare fin da subito il match trovando risposte dal suo trittico delle meraviglie Bona, Preti e Masello hanno fatto il bello e dire a cattivo tempo e così la Ferraroni già a metà gara aveva un vantaggio di 12 punti nella terzo quarto una partenza importante della Fugo capace di rimontare e di tornare sul meno 5 grazie ai canesti da tre punti di Burini e di Busciati poi però come detto il nervosismo l'ha fatta da Alpadrona Omegna ha continuato a parlare troppo con gli arbitri Cremona ne ha approfittato andando tante volte in lunetta punendo gli errori difensivi rosso-verdi ritrovando un vantaggio in doppia cifra nell'ultimo quarto la Paffoni ci ha provato senza però mai dare l'impressione di poter riaprire veramente la partita anche se c'è stata una tripla di Turel del possibile meno 4 sputata dal ferro finale nervoso con il tecnico Birindelli l'espulsione di Turel 8-2-6-4 venerdì a Verbagna alle 21 al Palabattisti la Paffoni è con le spalle al muro deve assolutamente vincere per allungare la serie e giocare a gara 4 che sarebbe ancora a Verbagna Ed ora le bocce con la Raffa per raccontarvi del nuovo pareggio del Possaccio Benino, le ragazze Ha guantato il quarto posto ma persa l'occasione per saltare di netto la Galigel il pari a Codogno non esalta la bocciopila Possaccio ma serve a recuperare un punto sui sardi in attesa dello scontro diretto che si giocherà però sull'isola il 18 giugno La diciottesima giornata è stata nel frattempo importante il pareggio tra Bovilla e Caccialanza e la bella vittoria di Inos Mosciano proprio sulla Galigel hanno modificato la classifica a quattro giornate dal termine mentre l'aritmetica ha già condannato alla retrocessione la Civitanovese In vetta invece i milanesi della Caccialanza sono stati raggiunti dall'Inos Mosciano con Bovilla al terzo posto sono tutte e tre ormai pronte per il play-off si cerca il quarto incomodo A Codogno il Possaccio del presidente Mazzolini ha messo in evidenza la buona forma di Roberto Signorini reduce da un eclatante primo posto a Roma nella gara Major un individuale nazionale di alto livello in cui ha battuto tra gli altri in semifinale Luca Viscusi ed in finale per 10 a 4 il giovane Alessio Frongia della Galigel ma non è bastata la grande esperienza del puntista di Possaccio per vincere gara alterna in pratica su e giù sia nell'individuale giocato da Nando Paone e che nelle sfide di coppia un su e giù appunto che ha portato ad un 4-4 finale nel quale si evidenzia la poca soddisfazione dei verbanesi tiratissima all'ultima sfida quando Porrozzi e l'ex di turno Campisi hanno alla fine prevalso per 8-6 su Paone e Andreani portandosi via un buon punto finale dopo il doppio pallino fallito dai nostri all'ultima mano sabato la sfida interna contro Fossombrone tutta da vincere nel girone piemontese toscano-emiliano femminile le speranze di passare il turno quali prime non sono perdute per la squadra femminile di Possaccio che in questi ultimi due weekend ha giocato 4 gare sabato 21 ha vinto Cortona 8-0 il giorno dopo ha perso dal circolo bocciofilo Grossetano 2-6 poi questa volta in casa si è preso la rivincita con Grosseto battendo lo sabato per 7-1 il giorno dopo però ha perso 3-5 dalla San Martinese che adesso ha due punti in meno in classifica ma una gara da recuperare ed è diventata la vera rivale per il primo posto che vale il passaggio ai turni successivi domani nella festa del 2 giugno le sorelle Ceriani Combi Lomazzi Guazzoni e Giorgetti debbono comunque a tutti i costi andare nel Bolognese a vincere contro Osteria Grande già sconfitta all'andata poi ha detto il DS Mauro Aralossi vedremo cosa si può ancora fare e così chiudiamo questa edizione del nostro giornale vcoazzurratv.it per tutti gli aggiornamenti ci sono anche le nostre pagine social siamo anche su Instagram cercateci e seguiteci è tutto per questa edizione quindi grazie per essere stati con noi buona continuazione di serata benvenuti al Giardino Alpinia ci troviamo a Stresa più precisamente la frazione dell'Alpino una frazione incastonata tra il Mottarone e Stresa ci troviamo a circa 900 metri sul livello del mare il Giardino Alpino nasce nel 1934 dall'idea di due soci per preservare il territorio incastonato nel verde con una bellissima vista sul Lago Maggiore sul Golfo Borromeo e sulle Alpi sul Lago di Varese oggi il Giardino Alpinia è un luogo perfetto per portare ragazzi bambini scuole per ammirare un bellissimo territorio delle bellissime specie erbore delle piante di montagna come andare a fare una passeggiata in alta quota anche se le ritrovate tutte all'interno del parco ed è accessibile a tutti dato che i percorsi sono anche per persone diversamente abili l'idea che abbiamo avuto all'inizio è stata quella di sviluppare i percorsi del Giardino Alpinia e il GAL ci è stato di grande aiuto perché senza il GAL non saremmo riusciti a realizzare questo percorso delle erbe officinali il percorso delle erbe officinali è nato già all'inizio per sviluppare la parte bassa del parco che diciamo era un po' sottovalutata la gente arrivava qui alla panoramica e si fermava e non andava avanti perché non avevamo percorsi pavimentati e il GAL ci ha dato proprio una grossa mano per realizzare questo percorso che ci è stato finanziato per l'importo di 64.000 euro abbiamo prestato particolare attenzione ai disabili perché già nel vecchio percorso che avevamo realizzato nel 2014 abbiamo dato priorità alle persone diversamente abili e quindi anche nella realizzazione di questo percorso abbiamo tenuto conto di questo quindi tutti possono accedere a questo percorso anche le persone diversamente abili per il futuro sicuramente speriamo di avviare di continuare in questa collaborazione con il GAL proprio perché ripeto il GAL ci ha dato una grossa mano e senza il GAL non avremmo realizzato questo percorso l'idea è quella di andare avanti e di fare ulteriori percorsi e cercare di sviluppare dei tematismi all'interno del parco